san maurizio era un soldato della legione tebea che subì il martirio ad agauni in svizzera l'odierna sen mori senvalois tra il 286 e il 302 nel 286 scoppiò in gallia una rivolta e diocleziano inviò varie truppe guidate da massimiano a ripristinare l'ordine oltre passate le alpi massimiano ordinò un sacrificio propiziatorio agli dei che i legionari cristiani rifiutarono di compiere maurizio comandante della legione tebana e tutti i legionari cristiani per questo rifiuto furono decapitati è stato scelto come protettore da diversi ordini cavallereschi medievali il più famoso dei quali è l'ordine savoiardo di san maurizio e patrono delle guardie svizzere vaticane dei militari e degli alpini degli eserciti italiano francese e belga grazie a tutti